ragazzi ciao a tutti e bentornate sul mio canale come potete vedere oggi vi presento la nuova collezione firmata la fam la collezione si chiama spring summer collection 2020 e porta il nome oriental escape quindi una collezione dedicata al mondo orientale che poi in italiano praticamente fuga orientale allora i colori sono stupendi veramente bellissimi ora poi ve le farò vedere nel dettaglio questo è il kit che vi arriva con l'acquisto di tutti e sei colori comprando il kit vi ricordo che prendete sei colori ma ne pagate solamente cinque quindi se vi piacciono questi colori i kit sono super convenienti e ve le straconsiglio perché poi comunque sia ogni colore è bellissimo veramente la collezione è composta da colori abbastanza vivaci adatti a entrambe le le stagioni quindi sia primaverili che poi estivi per andare a usare le colorazioni un pochino più strong allora i colori sono tutti pigmentati quindi sono colori pigment tranne uno che è questo qua che poi vi farò vedere che è semi coprente andiamo ad aprire la nostra brochure che ovviamente vi viene allegata insieme al alla collezione di fare vedere la bellezza di questa modella innanzitutto e comunque sia il il concept insomma il concept che hanno usato per questa collezione bellissima allora andiamola ad aprire e come ogni volta vi leggo insomma quello che scrivono su questa brochure allora spring summer collection oriental escape il desiderio di stare al sole di respirare aria nuova aumenta finalmente è arrivata la bella stagione è ora di fuggire lontano alla scoperta di culture esotiche il profumo d'incenso e il sapore delle spezie ti avvolgano le tue mani accarezzano le superfici di acque cristalline e i tuoi occhi rimangono incantati da imponenti templi la fam presenta oriental escape la collezione primavera estate 2020 di smalti semipermanenti ultra hd non stop color se nuanze intense e accese che vanno dal blu profondo di una baia nascosta del vietnam al verde della foresta di bali bellissimo guarda sono già lì passando per il rosa vivido dei fiori del giappone oriental escape ti accompagnerà in una fuga verso il levante per farti vivere un viaggio coinvolgente alla scoperta di una nuova dimensione cioè queste scritte queste piccole chicche quando le leggi ti portano veramente con la mente in questi posti meravigliosi vabbè vando alle ciance passiamo ai colori che è quello che poi ci interessa fondamentalmente ripeto i colori sono sei quindi andiamo ad aprire il nostro bellissimo kit questi sono i colori che vediamo dall'alto andiamolo ad aprire e partiamo con il primo colore nel frattempo ve le stendo perché io l'ho già stesi però sono in versione lucida le stendo su un'altra tip così vi faccio vedere la consistenza del colore e poi le andremo a fare opachi allora il primo colore che è quello che indosso io oggi ed è ragazze bellissimo è veramente un colore stupendo che è praticamente l'h248 che si chiama blue bay che eccolo qua blu coprente confermo straconfermo già con una sola passata ragazzi quindi volendo potete fare esclusivamente anche una sola passata come una baia incontaminata del vietnam dove lasciare fluire come lanterne tutti i pensieri e questo è l'h248 ve lo faccio vedere lucido è bellissimo ragazzi veramente bellissimo questo è un colore fra tutta la collezione che mi ha colpito maggiormente che mi piace proprio e lo andiamo a stendere per poi andarlo a fare vi faccio vedere la consistenza la classica consistenza dei semi permanenti se mettessi a fuoco sarebbe già una buona cosa corposi ma il giusto si stendono divinamente e lo andiamo a stendere ripeto che i colori la fama sono tutti autolivellanti quindi non lasciano striature e ora vi faccio anche vedere che vedete si autolivellano completamente da soli guardate qua piano piano sta scomparendo la strisciata che ha fatto il pennello cioè ragazze questo è un colore stupendo intanto questo lo vado a polimerizzare fatto una sola passata non andrò a fare la seconda perché come vi ho detto sono veramente molto pigmentati passiamo intanto al secondo che è l'h249 che questo si chiama esmeralde pool e questo ha il colore stupendo anche questo che adesso andremo a stendere intanto leggiamo la verde esmeraldo coprente a riconfermo comunicantevole laguna della talanda dove emeggersi in profonde emozioni e questo è l'h249 andiamo a stendere anche lui tanto ve lo faccio vedere prima lucido bellissimo e lo andiamo a stendere anche questo super iper coprente si stendono che è una favola veramente una favola ok io lascio sempre qualche secondo in maniera che il colore si autolivelli e porto il lampada questi qua due sono bellissime anche per fare una sfumatura andando a stendere il chiaro e poi andarlo a sfumare con il 248 insieme sono veramente belli e queste le straconsiglio che mi sono piaciuti veramente tanto poi passiamo all'h250 allora questo qua questo colore qua che si chiama green temple penso si dica così praticamente è l'unico colore tra tutti e sei che è il semi coprente quindi sono tutte super coprente con una passata questo qua invece semi coprente ha bisogno di due di due passate questo è il colore praticamente è un verde acido è bellissimo ragazzi questo colore veramente bello molto molto bello questa versione lucida è stupendo e andiamo a leggere qua quindi ripeto è l'h250 verde lime semi coprente come le foresti tropicali balinei balinesi dove meditare in armonia con la natura all'ombra di maestosi templi e andiamolo anche questo a stendere come vi dicevo questo qua ha bisogno di di due mani proprio per essere pignoli eh perché insomma come vedete da voi anche questo è abbastanza coprente però essendo un giallo giallo verde fluo insomma si sa che questi sono un pochino più più trasparenti anche qua aspetto qualche secondo per far sì che il colore si vada ad autolivellarsi polimerizzo e poi do la seconda passata intanto andiamo avanti passiamo al quarto colore che è l'h251 e questo è un color pescato color pesca anche questo bellissimo ora voi in camera lo vedete leggermente più desaturato però è molto più presente come pescato molto bello vedo se riuscivo a farvelo vedere no lo vedete sempre uguale eccolo qua l'h251 rose palace pesca chiaro coprente come uno sforzoso palazzo reale indiano dove passeggiare con un lungo abito sentirsi la prescelta del maharaya penso si dica così e anche questo è molto molto bello questo usabile veramente sia in primavera che in estate stupendo eccolo qua ve lo faccio vedere intanto lucido è lui bellissimo davvero e andiamo anche questo a stenderlo mettiamo a fuoco si stendono benissimo questi colori veramente bene allora di questo come vedete ha bisogno se riesco intanto a prenderlo i due passate rispetto ai primi due però copri bene andiamo aspettiamo questi due secondini e poi facciamo la seconda mano la faccio off camera almeno così se si risparmia tempo proseguiamo e passiamo all'h252 eccolo qua allora anche questo è un pesca un pochino più fluo è un po più acceso rispetto all'altro questo è proprio super estivo bellissimo appa te lo lascio aperto allora h252 pc ilz pesca scuro coprente come le colline del cappadocia al tramonto dove spiccare il volumo golfier verso la libertà ve lo faccio vedere quindi su tip lucida molto bello e anche questo lo andiamo a stendere mettiamo fuoco questo è la stessa consistenza dei primi due ed è super coprente alla prima passata veramente bello anche lui molto molto bello vedete la differenza tra i due questo è più acceso rispetto all'altro infine andiamo a scoprire l'ultimo colore che è l'h253 questo è un bellissimo lilla stupendo questo ragazzo è stupendo veramente stupendo lucido è lui bello 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 e si chiama appunto h253 floral road rosa acceso coprente come petri di un incantevole via fiorita giapponese dove passeggiare inebriati dal profumo in compagnia di dolci ricordi e questo lo stendiamo è veramente bello questo colore mi piace davvero tanto allora andiamo a tendere che si autolivelli e via eccoli ragazze stesi tutti vicini super lucidi ma come sono bellissimi veramente belli e adesso andando a usare il mio sigillante preferito in assoluto mattificante il matt top no wipe sempre della fam andiamo a sigillare questi stai bellissimi colori e le vediamo in versione opaca quindi vado a sigillare andiamo ad aprire andiamo a sigillarli tutti e ci vediamo dopo in versione opaca ragazze e ragazzi ed eccoli qua in versione matte cioè ma come sono a parte che questo matte vi ripeto in ogni video che è meraviglioso cioè è stupendo veramente stupendo e poi guardate come sono cioè in versione matte sono bellissimi allora vediamoli così sia lucidi opachi e vediamo anche gli altri tre e questi sono gli altri tre ragazzi sono stupendi c'è poco da dire lo vedete anche voi quindi devo aggiungere ben poco mettiamo fuoco magari ok ragazzi con questo video ho quasi finito vi voglio dire un'ultima cosa che la fam ha deciso di farvi un regalo per la festa delle donne quindi chi ordina dal 2 marzo fino al giorno 8 avrà un olio cuticole ovviamente in fragranza casuale in regalo l'olio e la fam sono questi qua e non so se l'avete mai provati ma sono meravigliosi io praticamente ce l'ho di tutti i tipi e sono i miei oli preferiti in assoluto perché sono super idratanti per le nostre cuticole e poi emanano un profumo meraviglioso quindi ripeto chi ordina dal 2 marzo fino all'8 marzo avrà questo olio cuticole in omaggio ragazze io spero vi sia stato utile questo video fammi sapere chi di voi comprerà la collezione perché è veramente stupenda vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao